...spiro ideologico rispetto a tutte le novità che escono di sua grafica, appunto da jazz, al rock, al heavy metal, al funky, al blues, alla musica rock italiana presa in considerazione negli ultimi tempi. Devo dire una puntata particolarmente bella quella di questa sera, tantissime novità come sempre in anteprima considerando le ultime due novità della settimana scorsa che erano proprio sconvolgenti, anche questa sera ho da proporvi una miriadi, non scherzo, una miriadi di cose interessantissime, cose bellissime, cose anche meno belle, che vanno prese sempre col sottinteso appunto della novità discografica che è molto molto importante. Vi ricordo l'ottava notte, il programma che va in onda il mercoledì alle 21 appunto da TV a 40 e mi raccomando di seguire sempre con attenzione anche le repliche del programma che vanno in onda in altri orari appunto, seguendo sempre l'emittente in tutti i suoi orari. A questo punto io direi di cominciare immediatamente con il dischetto che anticipa appunto il nuovo CD diciamo reale di questo gruppo chiamato i Poison. I Poison negli ultimi tempi prendono in considerazione come chitarrista appunto, chitarrista solista, uno dei più grossi fantascientifici chitarristi della storia della chitarra, insomma per me rimane un idolo, una persona quasi irraggiungibile sotto certi aspetti, una persona che mi fa particolarmente impressione. Il suo nome Rishi Kotzen va appunto a cadere con uno dei gruppi diciamo considerati più mediocri appunto della storia dell'heavy rock, dunque un gruppo glam di seconda serie eccetera che cerca di cambiare, cerca di migliorarsi prendendo appunto uno dei più grandi chitarristi viventi. La testimonianza lo sentiamo attraverso questo pezzo, loro sono i Poison con il grandissimo Rishi Kotzen alla chitarra. Poison al loro nuovo lavoro, vi ricordo sempre in compagnia con Richard Benson questa ottava nota, una trasmissione che insegue la musica da diverso tempo, insegue la musica dal suo lato migliore, ultimamente stiamo visionando parecchie e tantissime cose, dunque che si fosse un attimino scandalizzato dal programma non si deve scandalizzare perché sto visionando tantissimi territori nuovi e ogni trasmissione di ottava nota di queste ultime che si esegueranno adesso per tre mesi sarà completamente diversa quasi una puntata dall'altra, sempre novità, una continua fornace di novità discografiche che alterneranno momenti di fusion, momenti di rock italiano, momenti di heavy metal, momenti di rock progressivo, momenti di blues, di funk eccetera, dunque è una visione totale sulla musica di oggi senza condizionamenti, ecco senza paraocchi. Un grande disco che sicuramente fa piacere proprio al chitarrista, un disco per chitarristi dove ci sono delle cose incredibili chitarristicamente parlando, stiamo parlando di uno dei migliori solisti della nuova schiera, Brad Garst, ex chitarrista Dane Helson, poi con Sean Lane e Frank Gambale nell'LP Centrifugal Funk, questo diciamo è il suo disco quasi solistico, però in coppia con l'altro chitarrista TJ Elmerich che è stato segnalato come uno dei più veloci, uno dei più importanti chitarristi appunto del tapping a due mani, in sintomatologia con la tecnica di Jennifer Batten o di uno Steve Lynch. Il pezzo che ricordiamo poi al basso Gary Willis, bassista con Scott Anderson, dunque un jazzista molto preparato, Bobby Rock invece è un batterista metal molto forte, dunque una sessione ritmica particolarmente strana, mi piacciono le cose strane, mi piacciono le contaminazioni, questo pezzo è meraviglioso e testimonia questo loro primo disco in duo, il pezzo si chiama quid, pro, quo, Brad Garst e TJ Elmerich, una forza bestiale vincente chitarristica. Adesso ricapitoliamo, rientriamo nei ranghi appunto di quello che ci offre il nostro bel paese sotto la dimensione rock. Vorrei segnalare un gruppo, un gruppo appunto di ragazzi, ci sono tantissimi gruppi e sempre io devo fare tutte le mie differenze, i miei complimenti a chi studia, chi si chiude in cantina per ore e ore, cerca di preparare dei progetti che normalmente in più dei casi vanno a finire tutti mali per colpa di un condizionamento discografico non adeguato, per colpa di tante strutture, per colpa di tantissima gente che sta al posto sbagliato, al momento sbagliato purtroppo in questo ciclo storico italiano dove non si può fare più di tanto, insomma lo dico per tutti i settori, per quanto riguarda la letteratura, la poesia, l'arte, la pittura in genere e tutta la gente che vorrebbe dire qualche cosa non ci sono spazi per poterlo dire e ci vogliono anni, anni di sofferenza come sono stati per me per poi poter dire qualcosa, insomma è molto molto dura, dunque vanno sempre spinti i giovani oggi, questo è un nuovo gruppo romano, si chiamano Iattica e ci propongono questo pezzo, andiamo a sentire gli Iattica.